Il teatro alla radio A occhi chiusi immaginiamo di aprire gli occhi e di ritrovarci dentro uno studio radiofonico. Cosa c'è dentro uno studio radiofonico? Non c'è assolutamente niente. Ci sono dei microfoni e ci sono degli attori. Ma questo niente produce moltissimo. Il primo è di un fuga dal Natale che mi sembra una bella apertura per una cosa di Natale ed è quanto forse desiderrebbero fare molti. Ed è ciò che fanno i due protagonisti di questo romanzo di John Grisham, un autore che molti di voi conoscono.